Lunedì 16 ottobre, buongiorno ai nostri ascoltatori, bentrovati a questo appuntamento con l'informazione e soprattutto buon inizio di settimana. Cominciamo subito con i social e guardiamo quali sono le notizie in aggiornamento della mattinata. Con la testata Lucca in diretta si parla della grande manifestazione che richiama come sempre migliaia e migliaia di appassionati Lucca Comics & Games, città invasa dagli stand, scattano i divieti nelle piazze per il montaggio dei padiglioni. Leggiamo ancora, il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli e la città si prepara ad accogliere l'esercito delle nuvole parlanti e dei videogiochi. Da domani, o meglio da oggi, 16 ottobre in particolare, scatteranno alcuni ulteriori divieti per consentire l'allestimento dei padiglioni nelle piazze del centro storico che quest'anno è invaso dalle strutture di Lucca Comics & Games. Questa è la notizia che troviamo sulla testata Lucca in diretta. Andiamo a vedere ora lo schermo, un'altra testata lucchese. Vediamo l'apertura, parliamo del club nautico della Versilia che consegna le borse di studio intitolate a due grandi della nautica di Areggino, la famiglia Benetti-Bertani. Eccola qua la notizia, il club nautico consegna le borse di studio intitolata Maurizio e Bertani-Benetti. Leggiamo qualche notizia in più, dopo il rinvio a causa del grave lutto che aveva colpito il mondo scolastico di Areggino, venerdì prossimo 20 ottobre alle 11, nelle sale del club nautico in piazza dei Palombari dell'Artiglio al Viareggio, una delle zone più belle, più straordinarie della città, si svolgerà il tanto atteso appuntamento di consegna delle borse di studio intitolate a questi due grandi personaggi. L'iniziativa è stata organizzata e fortemente voluta dal presidente del club nautico Roberto Brunetti. Andiamo sul Versilia in Tirreno, vediamo un po', cade e sbatte la testa mentre cerca i funghi a Stazzema. Un cercatore di funghi è caduto nel pomeriggio di domenica 15 nei boschi che Daruosina portano a Basati e si è procurato una frattura battendo anche la testa. È stato lui stesso a telefonare alla centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto il soccorso alpino ed un'ambulanza della pubblica assistenza di Stazzema, oltre all'automedica per trasportare l'uomo all'ambulanza. I soccorritori sono stati costretti a portarlo a piedi lungo il sentiero e così le operazioni di soccorso si sono decisamente allungate. Comunque nessun pericolo per la persona. Andiamo sul Tirreno in Cronaca di Lucca, parliamo del caffè di Simo, lo storico caffè, il bellissimo caffè della Via Fillungo. Il recupero è ok, adesso si cerca un gestore. Completati i lavori interni, anche la vetrina di Via Fillungo è stata riallestita. Il locale è sul mercato, ancora però non risulta conclusa alcuna trattativa. Vediamo un po', il recupero strutturale è stato eseguito, ormai concluso insomma. Il locale è stato ripulito, la vetrina anche, ed è stata anche riallestita. Fanno bella mostra di sé alcune bottiglie di vino d'annata, una litografia di Giacomo Puccini datata 1986, realizzata dal via regino Elio Slippi. Ci sono un vassoio d'epoca con impresso il nome di Simo e teiere e caffettiere antiche. Insomma, la possibilità che questo storico caffè lucchese venga riaperto è davvero a questo punto a portata di mano. Andiamo ora sulla Nazione. In Cronaca di Vireggio c'è una notizia che riguarda la strage alla stazione ferroviaria, la strage di via Ponchielli e via Porta Petrasanta. Anche il pubblico ministero, i pubblici ministeri, hanno fatto ricorso. L'appello rischia un ritardo di svariati mesi. Intanto sono scaduti proprio ieri i termini, ma i tedeschi sono in attesa della traduzione. Vediamo qualche particolare in più. Sono scaduti ieri i termini per presentare ricorso contro la sentenza di primo grado sulla strage di Vireggio. I 45 giorni previsti dalla legge dopo la presentazione delle motivazioni da parte dei giudici, lo ricordiamo Gerardo Boragine, presidente, qualivati dai colleghi Nidia Genovese e Valeria Marino, scadevano proprio in un giorno festivo, ieri domenica 15 ottobre. La procura, pubblico ministero Giuseppe Amodeo e Salvatore Giannino, ha presentato il suo ricorso sabato mattina, così come avevano fatto nei giorni scorsi anche alcune parti civili e difese degli imputati. Andiamo ora a vedere la prima pagina del terreno in cronaca di oggi che parla del mercato immobiliare di Viareggio e della Versilia. Chi vuole vendere casa deve abbassare i prezzi, non si ferma al momento, nonostante ci siano parecchie richieste di compravendita, non si ferma la discesa delle quotazioni, anche se sembra più lieve rispetto a quello che è accaduto lo scorso anno. Nel giro di pochi mesi un ulteriore calo tra i 50 e i 100 euro a metro quadrato. Ieri lo sport, buone notizie arrivano dal campionato di serie D che vede impegnate quattro squadre tra Viareggio e la Lucchesia. Vediamo il servizio. Il Viareggio è sprecone ma alla fine supera lo Scandicci 2-1 con un risultato più stretto di quanto la squadra abbia espresso sul campo. Dopo le traverse di Papi e Giovanelli vantaggio bianconero grazie all'autorete di Crocetti sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il raddoppio giunge sul rigore trasformato da Guidi, poi accorciano le distanze fiorentini al 44esimo del primo tempo su un calcio di rigore dubbio trasformato da Crocetti. Domenica derby a Forte De Marmi contro i Nerazzurri che hanno perso Anzarremo per 2-1 con tante recriminazioni in quanto il pallone per il possibile 2-2 lo giudicano che sia stato al di là della linea bianca almeno 20 centimetri. Per i padroni di casa doppietta di Lauria per il forte rete di Falchini. Vittoria del Seravezza Pozzi in casa 2-1 grazie ai gol di Rodriguez e Benedetti che hanno recuperato la rete del vantaggio di Meacci. Tre punti che permettono ai ragazzi di Walter Vangioni di confermarsi nelle zone alte della classifica. Pareggio a reti bianche tra il Giviborghe e l'Argentina. In attacco è tornato Di Paola che ha segnato un gol annullato per un fuorigioco nel finale del primo tempo. Rischio di autorete nel finale. Palo ancora di Di Paola che impegna poi seriamente il portiere Ligure che riesce in qualche modo a salvare però la sua porta. E questo è il servizio di Roio e per il punto sulla serie di. Torniamo sulla Nazione questa volta in cronaca di Lucca. Delfina reginetta degli agricoltori premiata la giovane imprenditrice. Olio biologico a 600 metri di altezza l'eccellenza del suo agriturismo. Qui vediamo la famiglia al completo in questa foto scattata Delfina Pozzoni seconda da sinistra e la sua famiglia. Eccola qua. Andiamo a vedere che cosa contiene questo articolo. Sorriso solare un grande amore per l'arte che coltiva da quando era bambina. Tanta grinta e voglia di fare ma per completare il profilo di Delfina Pozzoni 21 anni da compiere a gennaio bisogna aggiungere la passione per la natura e il talento innato per gli affari. Capacità che ha già saputo mettere in campo ancora giovanissima. Sabato infatti al Teatro della Rosa di Pontremoli ha ricevuto riconoscimento imprenditoria e femminile nell'ambito del premio Pontremoli Giovani per l'agricoltura di prestigio organizzato dalla CIA della Toscana Nord. Bene, è tutto per quello che riguarda gli aggiornamenti di cronaca della mattinata. Tra poco nella seconda parte della nostra trasmissione pomeriggio con noi avremo ospite il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Viereggio Alessandro Santini con il quale parleremo di problemi legati all'urbanistica e alle cose che non funzionano nella città di Viereggio. Linea alla regia. Seconda parte di pomeriggio con noi salutiamo coloro che soltanto ora si sono messi all'ascolto della nostra trasmissione, salutiamo il nostro ospite come abbiamo annunciato e il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Viereggio Alessandro Santini. Salve a tutti. Intanto buon pomeriggio, grazie per aver accettato questo nostro invito. Gli argomenti in graticola all'ordine del giorno che scottano sono quelli che riguardano l'urbanistica della città dopo che l'amministrazione ha presentato un progetto ancora non definitivo. Allora cominciamo con l'asse di penetrazione. Molto discusso, se ne parla ormai da tantissimi anni, c'è da completare il terzo e il quarto lotto. Qual è il punto di vista del tuo partito? Forza Italia è sempre stata chiara e già dal tempo della giunta Lunardini fece tutti i passi necessari perché quest'asse di penetrazione finalmente giungesse a compimento e trovasse la soluzione in quello che è il passaggio a sud dello Stadio dei Pini. Un passaggio che è il meno influente possibile a livello urbanistico e ambientale, che è la soluzione migliore per decongestionare il traffico della Darsena, per andare incontro alle necessità soprattutto sicuramente della canteristica e andare a risolvere i problemi della canteristica non significa snobbare i problemi della città, dei viareggini o dei d'arsenotti. Significa anzi occuparsi soprattutto della problematica di chi abita lì dentro e ridar vita a quello che è il settore della canteristica e della nautica di Viareggio che finalmente effettivamente sta ritrovando un momento florido in questi ultimi mesi e fa ben sperare in un ritorno di grande attenzione sulla nautica viaregina. Le mostre nautiche che ci sono state nell'ultimo anno, quella di giugno e quella di luglio anche per quello che riguardava i piccoli motoscafi, i piccoli iotti riva, la festa del club nautico, ha fatto capire che c'è una grossa attenzione e c'è la possibilità economicamente, commercialmente, turisticamente, culturalmente di un'attenzione presso la nautica di Viareggio. Quindi Viareggio è ancora un prodotto, è un nome e una targa nautica spendibile. Quindi che cosa può fare l'amministrazione e la politica di Viareggio? Aiutare la nautica con l'asse di penetrazione. L'asse di penetrazione che permette ai cantieri di vivere e di lavorare perché altrimenti i cantieri, lo sappiamo già, si trasferiscono dove è possibile lavorare e dove è possibile vivere. Se i cantieri lavorano e vivono, si dà posti di lavoro. Posti di lavoro significa che la città e la darsena stessa rivivono e soprattutto si risolvono problemi economici di tante famiglie. Quindi Forza Italia dice sì all'asse di penetrazione, dice sì a sud dello stadio. Possono e devono essere abbattuti o sostituiti alcune piante, alcuni pini. L'incidenza ambientale è minima realmente. Ci sono tante piante che devono essere messe in sicurezza, che devono essere curate. Può essere anche l'occasione per mettere mano alla pineta stessa. Ci saranno sicuramente quei finanziamenti necessari anche da parte dei privati per sistemare, per costruire l'asse, per sistemare tutto quello che è la parte intorno. Lo stadio viene tenuto in sicurezza, la pineta viene tenuta in sicurezza, vengono tolte delle piante. Se è necessario sacrificare alcune piante per rifar partire la nautica, far ripartire la canteristica e rifar partire la darsena, io preferisco sostituire o abbattere qualche pine e francamente non condivido la posizione degli ambientalisti che bloccano tutto e tutti e stanno bloccando tutta la marina dalla darsena a Torre del Lago impedendo qualsiasi soluzione che ridia vita commercialmente e turisticamente alla nostra città. Quindi gli ambientalisti devono digerire questa cosa perché noi ora abbiamo bisogno di fare un passo avanti e non cinque indietro che fanno fare gli ambientalisti. In questo caso da ambientalista, perché tutti noi siamo ambientalisti, dobbiamo vivere bene nel nostro pianeta Terra, però non esistono gli ambientalisti di serie A e quelli di serie B. Leggi e regole devono essere rispettate, le rispetteranno anche nel fare l'asse di penetrazione e sicuramente a sud. Tra i detrattori dell'asse di penetrazione, soprattutto nell'ultima parte, ci sono molte persone che ritengono che questo progetto datato quando il porto di Vereggia aveva altre funzioni oggi probabilmente non serve più. Io lo lascerei dire a chi di nautica vive. Non credo che i detrattori vivano della nautica, che comprendano realmente quali sono i problemi della nautica. Nemmeno Alessandro Santini vive di nautica, però facendo politica e facendo l'amministratore pubblico parlo con le persone del settore. Le persone del settore sono prima di tutto sicuramente i proprietari dei cantieri. Questo non è una cosa negativa, essere proprietario di un cantiere, perché il proprietario del cantiere dà lavoro agli operai e siccome sono dalla parte degli operai ma parlo con i proprietari dei cantieri, se il cantiere navale lavora e dà lavoro agli operai sono dalla parte di tutti e due equamente e cerco di difenderli. Quindi io credo che se il proprietario di un cantiere ha bisogno e lo dice da anni dell'asse di penetrazione per poter far arrivare e partire gli scafi delle navi che non riescono più a passare dal centro della Darsena, ben venga, me lo devono dire loro se un ristorante ha bisogno di piatti nuovi, me lo deve dire il ristoratore, non me lo deve dire il cliente o quello che da fuori guarda dentro il cliente che mangia con i piatti vecchi del ristoratore. E questo lo dico da ristoratore. Quindi a volte i consigli di parte, detti in maniera negativi, vanno soppesati per comprendere chi è che sta dicendo questo e perché lo sta dicendo, perché si cerca di bloccare per l'ennesima volta la volontà di creare l'asse di penetrazione che abbiamo compreso benissimo tutti, che serve. Perché poi ecco, la differenza sta a farlo a nord dello stadio o farlo a sud. Io dico a sud, però che venga fatto è ormai una cosa limpida e cristallina. Certo. Altra cosa che riguarda pur sempre i piani urbanistici, ma questa volta del porto, o queste ore la notizia, il vertice di Benetti Azimut che vorrebbe portare parti importanti della produzione del cantiere di Viareggio, trasferire da Livorno con 45 dipendenti che potrebbero andare là. C'è stato subito un secco no da parte del sindacato di categoria, ma anche degli stessi datori di lavoro. Mentre il vertice dice, ma attenzione, guardate che noi non intendiamo smantellare il cantiere, ma vogliamo soltanto creare nuove opportunità. Forse perché il porto di Viareggio non è più in grado di varare imbarcazioni importanti? Il porto di Viareggio non è più appetibile per chi deve investire è sotto la luce del sole. Questo non sta solo nel fatto di avere una viabilità deficitaria. Quindi non solo manca l'asse di penetrazione per far lavorare i cantieri. Abbiamo la problematica secolare dell'insabbiamento del porto. Lo sa chiunque che per entrare o per uscire dal porto ci sono grandissime difficoltà e delle situazioni veramente gravi di sicurezza. Quindi se uno che deve investire, che deve costruire barche, ti dice non riesco più a costruire nella maniera adeguata, a me da amministratore e come Viareggio adottato mi dispiace che uno guardi ad altri porti. Però posso anche comprendere che se non riescono a lavorare perché noi non gli diamo la possibilità perché il porto insabbiato devo anche digerire questa loro decisione. Come sta anche nel fatto che una prova che il porto che è insabbiato e non funziona sta anche nel fatto che non solo il porto dovrebbe essere ripulito dalla sabbia da chi gestisce il porto. L'azienda, il cantiere che costruisce la nave e fa il varo si deve accollare anche la pulizia del porto nel momento del varo perché se no la barca non esce dal cantiere, non entra in mare. Se questa sembra una cosa possibile e sembra una cosa normale e logica, togliamocelo dalla mente, solo a Viareggio possono capitare queste cose. Abbiamo una fortuna, il porto di Viareggio sta vivendo di gloria e di luce riflessa come tutte le cose importanti che sono nate a Viareggio poi sono emigrate. Quindi facciamo tesoro delle esperienze negative che abbiamo vissuto finora, non facciamo accadere alla nautica, la canteristica, quello che è accaduto con il festival della canzone, la festa del libro, tutto quello che di bello abbiamo fatto che sta scomparendo. Si parla di nuova banchina commerciale, a quel punto si dà per scontato che si dovrà provvedere al tragaggio del porto? Io mi auguro che col progetto di una nuova banchina commerciale quindi si metta realmente mano a qualche cosa che permette al porto di rinascere. Nell'acqua del porto di Viareggio manca l'ossigeno ma manca in tutti i sensi. Noi stiamo facendo morire il porto perché troppe attenzioni negative ci sono sul porto, la procura sta indagando sul porto, ci sono attenzioni negative ma fortunatamente c'è anche un'attenzione viva, una linfa nuova dove si dice morto il porto di Viareggio, Viareggio non ha più niente. O ci si mette mano finalmente in maniera onesta, legale oggi oppure vediamo sparire anche questo braccio importante della città. Siccome noi questa cosa non la vogliamo Forza Italia dice chiaramente disponibile a discutere di tutte quelle soluzioni che fanno vivere il porto e fanno vivere la nautica. Parliamo ora della nuova fase del partito Forza Italia. Dopo l'uscita del capogruppo Salemi che cosa succede? Che potrebbe essersi ridotta la forza del tuo partito in seno al Consiglio Comunale? La forza non si è ridotta dal momento che in Consiglio Comunale ha sempre solo parlato Alessandro Santini come consigliere comunale, dato che la voce di Rodolfo Salemi non era presente ma per scelte politiche che io non vado a sindacare, scelte politiche le sue che non collimavano con quelle ufficiali e riconosciute di Forza Italia a livello comunale, comunale, provinciale, regionale e nazionale. Comprendo che se una persona non si trova più bene all'interno di un partito debba fare altre scelte, come abbiamo sempre detto le porte sono aperte sia per entrare che per uscire, quindi noi non si obbliga nessuno a restare, non si obbliga nessuno ad entrare. Le scelte sono differenti, non si condividono, è logico che in Consiglio Comunale si parlano due lingue differenti. La lingua di Alessandro Santini di Forza Italia che io rappresento come coordinatore è quella unica di opposizione a questa amministrazione e l'abbiamo sempre detto, l'ho detto da quando mi sono candidato a sindaco due anni fa, lo dico da sempre sia come consigliere comunale che come coordinatore, noi siamo una forza di opposizione di centro-destra e non cerchiamo in ciuce e non parliamo con l'amministrazione se non dicendo e ribadendo e chiedendo le cose che abbiamo messo nero su bianco sul nostro programma elettorale. Se qualcun altro preferisce invece stare nelle stanze dei bottoni, nella stanza delle poltrone e sceglie l'amministrazione pur essendo stato eletto all'interno dell'opposizione, la porta è aperta per uscire e non per rimanere. Certo, un'ultima cosa, manca una manciata di seconda della chiusura, un commento su questa scelta avanzata fatta da Massimo Malleni che lascia la guida di Pietrasanta per un incarico in Parlamento? Io credo che una persona importante per Forza Italia come Massimo Malleni, scelto direttamente dal Presidente Silvio Berlusconi, io credo che una persona come lui che ha un valore immenso, che ha fatto per tre mandati, per due mandati e mezzo il sindaco di Pietrasanta in maniera eccellente, la Versilia giustamente a questo punto gli sta stretta, lui è già stato scelto e è tutti i giorni sulle televisioni nazionali. Un personaggio del calibro di Massimo Malleni per Forza Italia ha un incarico o delle aspettative a livello nazionale, è un personaggio nazionale che merita di lavorare per Forza Italia e per i suoi cittadini a grandi livelli e non più solo per la Versilia al quale rimarrà legato e lavorerà. Io ringrazio molto Alessandro Santini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Viareggio e noi gli diamo l'appuntamento a domani alla solita ora con pomeriggio con noi. Arrivederci. Grazie a tutti.